Ciao ragazzi, quest'oggi vogliamo presentarvi un prodotto commercializzato da USB Fever, noto sito di e-commerce di cui spesso vi proponiamo prodotti e accessori per iPhone e iPad. Quest'oggi vi parliamo di una batteria esterna portatile per iPhone e compatibile anche con l'iPad. Come vedrete, la grandezza e le dimensioni del prodotto sono veramente piccole. Si tratta di un prodotto estremamente pratico da portare con sé, appartenente appunto alla categoria delle batterie esterne. Ne abbiamo viste di vari tipi, molto di moda sono quelle che in realtà costituiscono dei case, delle custodie vere e proprie per il nostro telefono, che integrano anche una batteria. Questo prodotto si ispira invece ad un ideale diverso, in quanto è semplicemente una batteria che possiamo portare sempre con noi da utilizzare quando l'autonomia del nostro iPhone è ridotta o sta terminando. Il peso è di 42 grammi, quindi davvero non lo sentirete. La batteria ha una capacità di 1500 mAh. Ciò significa che vi permette di ricaricare di circa il 50% il vostro iPhone 4. Abbiamo fatto una prova, tenendola collegata poco meno di un'oretta, abbiamo ricaricato il nostro iPhone del 52%, quindi comunque in situazioni di necessità o addirittura di emergenza può certamente fare comodo. Per ricaricare il prodotto, che si ricarica tramite un cavo USB, sono necessarie invece due o tre ore. La linea del prodotto, in termini estetici, si ispira liberamente a quella dell'iPhone. Certamente è ispirata più a quella dell'iPhone 4 nero rispetto alla versione bianca, ma in linea di massima le linee ricordano notevolmente quelle dell'iPhone. Quando andiamo ad attaccare appunto la batteria, vedrete una spia blu che si accende e indica appunto che la batteria sta ricaricando il telefono, che come vedete adesso ce l'abbiamo carico al 100%, ma comunque potete vedere il simbolo di ricarica. Come troverete anche scritto nella recensione testuale, questo prodotto risente di alcuni difetti. Innanzitutto i materiali che sono stati utilizzati per costruire questo accessorio. Devo dire che personalmente non mi hanno ispirato una grande fiducia, nel senso che non danno l'idea di essere molto robusti. Inoltre, quando avviamo il processo di ricarica del telefono, si sente un simbilo piuttosto fastidioso, che comunque non è certo indice di un eccellente funzionamento. Insomma, chiunque di voi abbia batterie esterne per telefoni cellulari sa benissimo che sono assolutamente silenziose e non provocano alcun tipo di suono ossibilo. Inoltre, abbiamo riscontrato che la batteria si scalda notevolmente durante il processo di ricarica. Questo è un fatto piuttosto normale, in quanto comunque anche lo stesso iPhone si scalda molto durante l'utilizzo. pertanto non è che sia piuttosto preoccupante. Bisogna però dire che il prezzo di questo accessorio, che è pari a circa 25 dollari, è comunque ridotto, quindi ciò spiega la non eccessiva qualità che è stata utilizzata nel processo di produzione. Insieme alla batteria, come dicevamo precedentemente, viene fornito un cavetto USB, anche questo normalissimo, USB da una parte e mini USB dall'altra, che vi permette di ricaricare il dispositivo, semplicemente collegandolo. Durante la fase di ricarica, si accenderà un apposito LED che vi indica appunto lo stato di ricarica. Quando la ricarica è terminata, il LED diventa azzurro. Infine, durante il processo di ricarica, quando l'autonomia della batteria esterna sta esaurendo, si accenderà un LED rosso sulla sinistra del prodotto, che vi indicherà appunto che la ricarica sta per terminare, in quanto non vi è più autonomia. Un'ulteriore caratteristica di questo prodotto è il tasto laterale, che vi fornisce indicazioni sullo stato di autonomia della batteria esterna. Se una volta premuto vi si accenderà una spia blu, significa che avete ancora una discreta autonomia all'interno dell'accessorio. Se invece, premendo il tasto, il LED diventa rosso, significa che dovete ricaricare l'accessorio. Concludendo, possiamo dire che il prodotto è di discreta qualità, non eccellente, come abbiamo detto, e anche perché appunto ci sono dei difetti in fatto di utilizzo dei materiali di costruzioni che sono evidenti. D'altro canto, come abbiamo detto prima, il prezzo è relativamente basso e questo spiega ovviamente la non eccessiva qualità in fase di produzione. Grazie per la visione!